In Bulgaria il candidato dell'opposizione socialista Bincz è sorpreso il primo turno delle presidenziali. Il generale in congedo Rumen Radev, già capo dell'aviezione militare appoggiato dal partito socialista, avrebbe superato Tsenzka Zaceva, presidente del Parlamento e candidato del partito conservatore al governo, favorita dai sondaggi della vigilia. Oggi gli elettori bulgheri hanno detto no all'apatia ed hanno scelto il cambiamento, ha detto Radev. Dobbiamo attendere risultati ufficiali, ma è già chiaro che i cittadini hanno preso in mano il loro destino democratico perché è a loro che spetta, ha detto. Zaceva avrebbe ottenuto il 21,5% delle preferenze rispetto al 24,6% di Radev, un risultato che, se confermato, porterà al balottaggio i due candidati, in uno scrutino che si terrà il prossimo 13 novembre.